Ha aggredito i genitori perché voleva dei soldi e a loro rifiuto. Ha distrutto i mobili del loro appartamento e ha minacciato la madre di morte con un coltello. I carabinieri hanno arrestato un 29enne di nazionalità marocchina, con le accuse di violazione di domicilio, minaccia aggravata e lesioni personali. Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di martedì. L'uomo, che ha dei problemi psichiatrici ed è in cura al CPS di Pavia, si è presentato in casa dei genitori alla frazione Lambrinia di Chignolopo, è entrato nell'appartamento con la forza e ha chiesto dei soldi spiegando di aver già speso tutto il suo stipendio. Di fronte al rifiuto dei due ha dato in escandescenze. Prima ha danneggiato sedie e mobili, poi ha aggredito la madre con pugni e schiaffi. A un certo punto ha addirittura preso un coltello da cucina e ha minacciato di morte la donna per poi compiere gesti di autolesionismo, nella speranza di convincere i genitori. Il padre però aveva già chiamato le forze dell'ordine e in pochi minuti nell'appartamento si sono presentati i carabinieri di Chignolopo assieme ai colleghi di Bressana Bottarone. I militari hanno bloccato il 29enne che tra l'altro ha già dei precedenti e lo hanno portato in caserma per accertamenti. A quanto risulta il padre dell'uomo avrebbe anche filmato la scena dell'aggressione con il suo telefono e il video sarebbe ora a disposizione degli uomini dell'arma. Dopo la convalida dell'arresto il 29enne è stato messo ai domiciliari, il processo è fissato per il 25 ottobre prossimo. I genitori sono stati in seguito medicati al pronto soccorso dell'ospedale di Lodi.